Ovviamente, come è normale che sia, le aspettative si alzano nel rapporto ai risultati che ci sono stati nell'anno passato. Siamo consapevoli che è difficile ripetersi, è difficile migliorarsi. Sappiamo anche che ci sono state delle buone congiunture. La sfida sarà offrire delle prestazioni all'altezza delle aspettative. Non per forza si tradurranno i risultati, ma come sempre abbiamo fatto, cercheremo di rimanere concentrati sulla prestazione nostra. Pressione ne abbiamo sempre avuta perché, per fortuna, le ragazze hanno sempre avuto degli obiettivi di crescita loro, personali. Quindi sarà sicuramente da quel punto di vista uno stimolo in più. La pressione fa parte del gioco, più si alza il livello, più aumenta la pressione dentro il campo. Fuori dal campo è abbastanza parallelo il percorso, quindi direi che lo sport vive di sfide sempre più complicate e saltanti. Quindi siamo qui per questo, ci piace questo.